caricamento i caricamenti sono abbastanza lunghi e non si vede perché è qui dietro di me come vedete la zona del caricamento è a voglia abbastanza importante vediamo caricamento della logica del gioco con calma sono qui salve un po' di rosmarino ci stava con nozia così dobbiamo capitare a parlare col capitano no menate il torrone devo andare a fare le mie robe ecco andiamo a fare rapporto l'altra squadra grazie andiamo strucca al buton andiamo a fare rapporto al capitano che ci dirà come mai hai male al ginocchio nozia che è stato ucciso per una ragione scopriremo quale centriamoci capitano no 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 non no 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 Ne abbiamo solo uno Che strano E' infestato dai tirani Di chi lo sapeva? Chi avrebbe mai potuto immaginarlo? Ok Ok Non ci dà risposta Il barattolone Quello che faceva tutti i fumelli Non ci ha dato risposta Andiamo all'arsenale Eccoci Scendiamo Andiamo all'armeria Vediamo di Proseguire Adesso dovremo andare su Avarax Buongiorno Signori Buongiorno Buongiorno Cappellano Che la miseria Sono collassato No Sono preoccupato Un'azenale 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 Sgt. Gadriel Molto bene Proseguiamo Raggiungiamo l'armeria Vediamo Stato rifornito Con nuovi equipaggiamenti La miseria Cioè Sì Ok Ha bozzato Perché ha visto Quella roba là Il barinotto Fumotto Che Dai dai Su fammi vedere L'equipaggiamento Dai Ma Signor Kyron Lei si face cacchi suoi Per cortesia Eh Posso Ah no Ok Dobbiamo potenziarci Ci Ci da dei potenziamenti Ho detto che richiederà del tempo Qui Ok Orbita di Avarax Vediamo Dove andiamo Dica Va bene Grazie Eh sì La conoscenza Eh ho capito Nessuno sa niente Nessuno sa mai niente Eh Urbet Che succede Allarme rosso Ok Ci siamo E vola 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 A posto Passiamo per Avarax Ora Ok Entra nella struttura Della Adeptus Mechanicus Determina La posizione Di Morias Leus Cioè L'allievo Di Noziak Il suo Il suo boccia Come si dice Alle nostre parti No Il suo galoppino Sbaragnaus Il Sì Il boccia Ecco Tutto a posto Qui intanto Caricare Le risorse Dovremmo esserci Eccoci Oh molto bene Come non può portarci Qui vicino Ma c'abbiamo una nave Super megagiga Non Va bene Abbiamo una nave Super megagiga Ma non Non se va Va bene Ah ok Usiamo il montacarichi Questa Mi sono Non ho fatto ieri No Vamos Dai Qui abbiamo Spada potenziata Io voglio provarla Questa spada potenziata Fammi vedere Che cos'è che fa Arma versatile Cambia stile Stile veloce Combo veloci Stile potente Combo potenti Affondo in aria Turbine racerante Mentre scrivi o corri O nel mezzo delle combo Tenendo premuto Turbine possente Ah ok Ok va bene Questa cibo Questo è quello Ok Mamma mia che figaggine Peta un attimo Questo invece Questo è quello potente Ci piace quest'arma Si 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 Non avrò la motosega Ma sembra Tamarra Quanto basta Un po' Excalibur Peta proviamo Buongiorno Porca paletta E' una dispensatrice di morte Questa roba Va bene Ci piace Si Aspetta Cambiamo stile Ok Ma Ah quando è Molto illuminata E' forte Quando è poco illuminata E' veloce La combo veloce E' veramente Fighissima Perchè poi Fa anche un turbine Aspetta Adesso vedo Se riesco a farvelo vedere Supera Uè 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 Maura Vai con quella Con quella più lenta Adesso Proviamo con quello Vediamo Mi sono buttato Proprio così Adesso proviamo Niente Urca Li ho buttati la Tipo 10 metri Lavella Watch Vai con la super Mossa Onna molto bene tamarra mi piace questa spada mi piace mi piace pistola recca impesante avrei gradito uno steampak io vabbè non c'è dove dobbiamo andare? avanti, molto bene avance destra, sinistra, sinistra cambio arma di nuovo deposito munizioni ok eccolo qua steampak qua c'è di nuovo la spada catena teniamo questa dove? su? avanti, avanti e no qua dobbiamo andare e mo? ok vai con justice dobbiamo raggiungere i cecchini ok qui abbiamo granate stordenti un altro stimolanti morca paletta ho sbagliato ho sbagliato ho tenuto premuto e mi ha fatto il cambio stile stanno attento vai vai colleghi pure il ponte signore perché sono là a gadri e le cose cassa di munizioni resisti finché il ponte non si è steso ok ah è lunga? a posto ci siamo intanto c'è la cassa di munizioni qua dietro a questo punto facciamo il tiro al piccione qui urca due eccolo mamma mia sono tanti ucch giustiziamo questo che ci recuperiamo tutta la vita che c'era in giro ucch steng 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 vai con lo steng steng jared the magician ciao benvenuto credo siamo a posto vediamo è un po' di ammo però meglio riprendercele vai andiamo forza soci andiamo veloci andiamo veloci andiamo veloci pistola pesante il turbine che fa quando si è in corsa è veramente molto molto figo qui si scende uno steampack l'abbiamo preso ma speriamo buonasera buonasera a lei buon uomo buonasera buonasera messere andiamo ripristina la corrente del montacarichi a posto dai strucca il buton via alziamo ovviamente non funzionerà una cifra di niente che cia attenzione ok andiamo allora c'è una scorciatoia quindi dobbiamo muoverci qua altre munizie carichiamo tutto granata perforante va bene stimolanti ne abbiamo ancora uno non è che c'erano in giro magari due uno che avanza così un omaggio coi punti fragola una roba no niente secondo steampack no oh madonna ma questa era la sequenza quella del trailer molto diversa però vediamo almeno si andava di qua no si scende di là direttamente per i tetti andate ecco lì nessuna democrazia ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì ah reload orca paletta che sassata che mi ha dato boh quello è andato manca l'altro che è là in cima però alta 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 c'è un barile posto occhio 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 gli spiritelli qua che pericolosissimi vai donna dagli close dang ah che bello mamma mia la sta spada comunque è veramente ignorantissima mamma mia guarda li butta in giro proprio così ok avviciniamoci dall'altra parte ok ricarichiamo molto bene chi c'è ancora basta ok credo si debba aprire il punto là no dove si punto là granate ci siamo steampack ci siamo colpi li abbiamo ricaricati buongiorno ok via nell'apertura ok granate stordenti qua non ce ne facciamo una mazza vai sembra tutto tranquillo dove dobbiamo andare noi di preciso non è noto vabbè scendiamo il classico punto di non ritorno eccoli occhio camadocina questo e mo dai dai vai giustiziato subito che è quello più rompiscatole questo ci è andata bene ci è andata bene perché quello lì era proprio il più rognoso di tutti era proprio quello lì ok ricarichiamo post post nuovo obiettivo usa il monte a carichi per raggiungere la struttura quella questo è un essere orribile usiamo il monte a carichi dobbiamo arrivare là praticamente siamo qui signori che fate venite anche voi partecipate amici grazie Patrick Salve ciao benvenuto vediamola c'è la o c'è la manetta eccolo eh mi sta dissi va bene non parliamone c'è problema ecco lì dai beh sembra che tutto stia andando per il verso giusto c'è stata solo una pioggia di alieni eccone un'altra dobbiamo difendere le catene dai eh ce ne sono ancora no donna bisdrumo na super via dai eh giustiziamolo subito hai lus la Subaru SV si no è Subaru baracca vai oh dai eh chissà mettergli la copiglia a sta catena questa la potranno capire solo i pochi meccanici che mi seguono in questo momento boh un fatto credo di sì qui ci sono bestie di varia natura uè ma scusi cioè ho di educazione a casa sua non lo so occhio turbine vai giustiziato lo spadone qua è veramente fenomenale i like ferri splat occhio occhio le catene è di opera credo di averli fatti tutti sì porca miseria una granatina la lasciamo sì oh 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 ok al limite al limite ok ok oh oh no ammo prendiamoci pure lo steampack ne riprendiamo un altro qua c'è un altro qua c'è un altro steampack vai dov'è l'altro due qua orca miseria dai 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 tiriamo giù tutto pasto fatto fatto uff gadriel se l'è vista anche abbastanza brutta mi sembra c'è altra gente in giro no sembra tutto in ordine stiamo arrivando al portone ricarichiamo le munizie molto bene vediamo se riusciamo a raggiungere l'ultimo piano concluderla poi questa missione comunque le strutture sono veramente maestose molto ben realizzate ricche di dettaglio very good poco da dire a parte ste statterate incredibili che tira ogni tanto cucina lunga cittata altri steampack non li abbiamo qui c'è un mostro ripilante e ho capito aprite dobbiamo scendere a piedi ovviamente ci aspetterà il mondo lì sotto ah imura ecco io avevo letto ignorante invece no imura cos'è questo? oh reliquia credo sia ok molto evocativi questi questi tunnel eh vabbè e mo? ah si scende strucca schlenga ok raggiunge le banche dati qui ci sarà un dedalo di stanze e corridoi lunga cittata pesante cassa di munizioni siamo dalla parte giusta? non lo so qui c'è una piastra dati ah non riesco a vedere la eh la ok raggiungiamo il la di qua qui e poi dritto allora esatto beh c'è qualcosa è successo qualcosa è sfuggito qualcosa sulla griglia lì probabilmente aio fucile lunga cittata oh oh il pirofucile può essere che servirà il pirofucile sei lì beh è chiaro sì 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 assolutamente sì la possenza degli space marine di Warhammer poi è stata riportata in qualche modo anche in Gears che è un titolo postumo rispetto alla saga di Warhammer quindi quelli che dicono oh ma Warhammer sembra Gears no è il contrario Gears che sembra Warhammer oh oh sono nelle pareti ma se uso il pirofucile faccio le sfiammate incegnano illuminano illuminano una granatina la lanciamo che dite Mardok 5 5 5 ciao benvenuto vai che andiamo di me lì eeeh eeeh aio sono tanti steampack il fucile termico che mi avevano detto prima usalo che è figo pucca miseria gli ho proprio fatto una lampada a questo dove sta eccolo voleva scappare invece no buonasera Marvel granate come se piovessero for the emperor assolutamente si oh tornata la luce si sono ricordati di pagare la bolletta grazie raggiungi le banche dati io ce l'ho spadu si ho ancora il il fucilazzo eh lo so eh lo so lo so ma io aspetta non mi trovo benissimo con le armi a cortissimo raggio mi trovo più a mio agio con un medio lungo raggio medio raggio mi trovo più comfortable poi magari i veri fan della saga di Warhammer finiranno tutto col martelù non lo so non lo so però io da senza mani orgoglioso orgoglione quale sono ho bisogno di un'arma che vada a quantomeno medio raggio ecco si quantomeno quelli li ho uccisi proprio così per il gusto di plasma si però anche le requiem normali a munizioni mi piacciono fucile termico vediamo se c'è in giro qualcosina di carino magari un altro steampack per caso un altro stimolante qua abbiamo munizie no eccoci cosa vengo in questo hologram signor chiron ma ha fraccato su tutto ma ma mi scusi ma vabbè a sto punto allora cioè non lo so c'era qua anche il sagrestano che ha messo a posto tutto possiamo sdrumare le statue non dovremmo ma lo facciamo lo stesso perché la goduria di far esplodere della roba cosa dobbiamo c'è altro qua madonna è fatto tutto di carta pesta a parte questo mainframe di dati ok ecco il carnifex ti conosco mascherina ti ricordo e come se ti ricordo zio pera guarda io un paio di granatile te la lascio sono lì purca loca purca miseria mamma mia mamma mia ho un nientesimo di vita attiviamo la ultimate l'ho doggiato? no mi è saltato d'osso non è uscito fiesta non è uscito è già arrivato colenzo colenzo pugno notturno signori mi dareste una mano signor chiron signor gadriel nessuno che mi ressa potrei signor gadriel per cortesi un res non si niente se ne stanno battendo banalmente le gonadi resiamo noi avevamo la pietra vabbè due belle frag grenade che non fanno mai male gli akulei zio pera mi ero dimenticato che c'erano anche gli akulei steampax altra frag oh 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 altre grenade andiamo a assassinare sto maledetto imbecille a pugni in faccia madonna stoppone aveva cercato di farmi la foto come la prima volta e invece no rodeo time e poi su rimi per tutti signori pronti oh la ed ecco un comodo portachiavi molto bene molto bene qui se buttamo se buttamo si scende sto a requiem cosa abbiamo come altra arma ah ok sempre nel fucilozzo non abbiamo steampack un paio di granate stordenti ce le pigliamo rispetto a una singola frammentazione che può essere utile abbiamo altre munizie dovremmo essere full si no no non c'entra assolutamente nulla con doom cioè proprio no a prescindere dal prima terza persona ma è proprio anche un approccio completamente diverso doom è proprio uno shooter iper frenetico anche qua non si scherza però l'approccio al gioco è completamente diverso vediamo eccoli stenga stenga mancato il parry ui 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 giustiziamolo subito questo che ci da almeno le due tacchette di armor giustiziamo pure questo che non se sa mai ok mamma mia che agguatone che ci hanno fatto aaa purge xenos ciao vorstellar benvenuto eccoci interagiamo no eeeh ui mocio porca miseria non mi sono accorto ok reload non siamo messi proprio felicissimi eh splat super splat donnamo grazie dai 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 attenzione amo no lunga gittata così lunga gittata no dove dobbiamo andare ma no solo di qua dobbiamo lasciarci cadere oi là no stavo proprio sbagliando strada completamente da qui dove stavo proprio cannato completamente la strada quindi si proprio del tutto devo salire probabilmente ho svoltato dalla parte opposta quindi si sale di qua giusto yes ci sono i muri invisibili per fortuna a meno male cosa c'è là in fondo ha una porta automatica che non si chiude qui abbiamo altra piastra dati inceneritore plasma non lo so che dite ciao dragon blades grazie caro vediamo qua siamo full vai a bordo giovani si sale siamo messi veramente con le pezze con le proverbiali pezze nessun segno del arcinemico e si se ne è già andato certo certo non è mai stato qui no no si si osserva osserva i dati si 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 il colpo caricato è veramente violentissimo spero di non trovarmi nella spiacevole situazione di di avere a che fare con ondate secche di nemici molto veloci vediamo vado sereno ma allora a posto dai se me lo dici tu e fu così che il capitano ru walker morì vamos accedi al cogitator vediamo al cogitator fai tu eccoci al pannello di controllo installazione applicazioni accendiamo buttiamo su ecco effettivamente si no era una era una una burla per quando giocavamo a world of warcraft hardcore tempi di tassian ma no figurati mardock ma ci manca oh 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 attenzione scopriamo di più sul project aurora reconstruction graia drogan ma fatti i cacchi tuoi ma che vuoi ma gadriel oh oh Ok Dobbiamo Dobbiamo